Ciao amici da Frank Bianconero, del ICT Juve fatta, 75 milioni che non è un problema mio ovviamente, ognuno paga quello che gli chiedono. Facciamo un discorso sempre sui detrattori, perché fino a un mese fa per realtà e per prospettiva e per costo poteva essere uno dei migliori difensori al mondo, e io ho sempre detto, insieme a Van Dijk e Koulibaly, secondo me però sono i tre, dove la mia classifica sarebbe Van Dijk, Koulibaly e del ICT, e bisogna aspettarli in campo, come dico io, al campo la verità. I detrattori che da ieri sto leggendo, è pagato troppo, è costato troppo, è un rugani olandese, è una mezza schiappa, e prendete quelli che segnano quando vi eliminano, perciò io mi auguro che l'anno prossimo ci eliminano un bappè o messi, così magari cresce ancora di più il rossicamento, perché alla fine, parliamoci chiaro, questa si tratta, invidia, anziché dire o augurarsi che le proprie società copiano, copiano, o fanno meglio, perché nella vita non bisogna essere invidiosi, bisogna vedere chi fa meglio e magari essere uguali o simili, o magari superarlo, perché non si può dire che del ICT è un brutto acquisto, e se parliamo di prospettiva la Juve già si è sistemata, del ICT, de Miral, Romero, c'è anche Rugani, che Rugani fa parte della Rosa e fa meno. Io sono sempre per dire quello che penso, sia come giocatore, sia nel campo, come ho detto per esempio l'ottimo acquisto del Napoli, Manolas, come i mezzi acquisti di una squadra di mezza classifica il Milan, perché è inutile girarci intorno, io da amante del calcio, mi piace essere anche sportivo obiettivo, mi auguro che il Milan, la Roma, tornino su, si formano le 5, le 6, le 7 sorelle, come si diceva una volta, però la Juve è un rannettamento di vantaggio e si parla sulla carta, parliamo sulla carta, poi dal 25 agosto ne parliamo, però non si può dire che del ICT, Buffon come secondo che è tornato, Rabiot, Ramsey, e secondo me non è finita qui, perché ora usciranno 4-5 giocatori, a un paio di colpi ancora, li fa secondo me uno Icardi, parliamo però di De Ligt, De Ligt con i dovuti paragoni rispetto ad ora, mi sembra un difensore tipo Nesta, abbastanza pulito, energico, forse questo addirittura ha ancora più peso fisico, però stiamo parlando di un grande giocatore, allora poi dobbiamo dire è vero che in Italia siamo soltanto capaci a dir contro chi sta meglio, chi fa bene, perché ruba, perché paga, perché tutto quello che dici, anziché guardare lo, non lo schifo, il male che si fa, delle prove società, se si parla sempre obiettivamente. Il Barcellona ha preso De Jong, ha preso il miglior giocatore, dopo Pirlo e Xavi, davanti alla difesa. La Juve prende De Ligt, ora è uno dei più scarsi, sopravvalutato, pagato, troppo. Datevi una regola, datevi una regola, perché a Napoli se non arriva il James Rodriguez e Lozano non saranno 25 punti, perché non dimenticate che le ultime 8 partite la Juve ha fatto 5 pareggi, 2 sconfitte e 1 vittoria l'anno scorso, se no potevano essere anche di più, perciò non saranno 25, ad oggi saranno 15, parliamo ad oggi 16 luglio, 16 luglio. Poi, il Napoli farà 4 megacquisti, l'Inter 5 megacquisti, il Milan spenderà 500 milioni, perché il Milan per fare una squadra decente deve spendere quei soldi più o meno, perché tolto Romagnoli e Donnarumma, ancora dobbiamo vedere i giocatori del Milan forti quali sono, la Roma non si capisce ancora che progetto, che progettualità nel suo club, perciò io sono sempre per fare gli applausi a chi fa bene, in questo caso la società Juve, e ripeto, ripeto, facciamo ora gli osservatori sia di mercato sia di calcio, ad oggi, ad oggi, insieme a Barcellona e Real Madrid, sono le squadre che sul mercato stanno facendo meglio, sulla carta, poi si spera che nel campo si trasformi quello che succede sulla carta, perciò, cari amici miei, noi godiamo sportivamente, voi rosicate, le psinassi, le psinapsi si aprono, il fegato scoppia, e mi dispiace per voi, welcome the league, ci vediamo al campionato 2020-2021, ciao a tutti da Frank Bianconeri, iscrivetevi al canale,